Ciao ragazzi, come promesso bentornati alla seconda parte del mio allenamento di massa in questo video ho filmato la scheda B che come la scheda A sarà essenzialmente un 5x5 tranne un paio di esercizi ma vi mostrerò successivamente sempre non a cedimento la scheda come vi ho anticipato nella volta scorsa è un multifrequenza alternato nel senso che ABA e la settimana dopo BAB sempre a carichi progressivi negli esercizi nel senso partire da un peso abbastanza leggero incrementando nelle serie successive lo scopo sarebbe quello di aumentare sia forza sia massa nelle settimane ora che riprendo massa penso che non mi vedrete mai più senza canottiera fino all'estate prossima quindi godetevi questi ultimi momenti di gloria buon video e ci vediamo la prossima volta ciao a tutti 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 ciao a tutti